Giorgio Ciccone, oggi la colpa che ha provato a far saltare il banco? Sì, oggi abbiamo provato. Ieri abbiamo capito che Ravasi è quello che nella squadra è lui il leader. Io sono uscito di classifica ieri per vari motivi, vari problemi fisici e oggi abbiamo provato di tutto per provare a vincersi alla tappa che alla maglia. Ha dimostrato di andare forte, peccato solo per il finale che c'era troppo vento, altrimenti poteva giocarsela diversamente. Però ha dimostrato di avere gamba e d'ora in poi lavoreremo per lui. Oggi ci avete provato e adesso come si muoveranno le maglie bianconere? Da adesso in poi la situazione cambia, sicuramente terremo Ravasi come punto di riferimento e vediamo un po' come si muovono gli australiani e le altre squadre principali. Sicuramente controlleremo e non ci faremo sfuggire la situazione di mano. E quando vedremo il vero Giulio Ciccone? Quest'anno è un po' dura, un po' di problemi dovuti ad allergie, asma e sto passando un po' i guai ultimamente. Purtroppo io do sempre il massimo in bici, però quando arrivano al limite le gambe è difficile pedalare. Cercheremo di risolvere al più presto i problemi e per adesso aiuto la squadra. Grazie. 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 Grazie.